ciao a tutti ragazzi qui zago e bentrovati in questo nuovo video su brawl stars allora ho deciso di fare un video perché comunque questa settimana sto lavorando e sto lavorando di pomeriggio quindi non ho tempo per andare live e comunque anche se andassi live quando torno che alle 11 e 30 comunque vedo che tanti di voi sono a letto quindi non possono non possono essere presenti quindi secondo me forse è meglio fare fare un video che andare live a mezzanotte ecco allora quest'oggi utilizzeremo la nostra bella pammona e devo dire che mi trovo molto bene con lei è una dei brawler con cui mi trovo meglio però prima di partire vorrei ringraziarvi tutti per per il supporto del primo video su carl perché ho ricevuto veramente tantissimi like per il numero di iscritti che ho ovviamente sono 350 e rotti comunque ho ricevuto più di 30 like e quindi grazie a tutti sicuramente della prossima settimana lavorerò di mattina quindi sarò in live credo e spero di pomeriggio quindi sarete presenti tutti spero molto bene allora andiamoci a fare delle sopravvivenze in singolo ovviamente e vediamo un po anche perché mi manca una stellina un token non so come 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 volete chiamarlo per raggiungere le 10 su 10 per aprire la cassa quella grande e e poi vediamo se ci riusciamo ad aprire anche qualcuna delle casse piccole molto bene partiamo subito poi la eccoci qua allora ovviamente non lo spawniamo mai dove ci sono le casse chiaramente ok allora quel bombardino mi piace poco però non è un problema per il momento comunque lo lascio perdere preferisco andarmi ad accaparrare qualche bella cassetta di energia ecco qua comunque pam è una delle almeno io mi trovo bene con pam perché ha parecchia energia parecchia salute e e riesce ad avere un raggio ampio dall'esistanza ecco quel colt non mi piace per niente allora mi faccio gli affari miei ok forse quel boll riusciamo a farlo fuori che siamo in vantaggio no ok siamo in vantaggio con l'energia dai 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 attenzione perfetto allora ok bro rimanenti 5 allora quel colt ce l'ha con me ma stai buono colt vai eugenio pensaci te allora io mi faccio gli affari miei oh vedi volevi colt volevi attenzione scontro finale allora siamo contro eugenio comunque prima partita prima vittoria sarebbe clamoroso eh dai uh 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 ha preso con la super ha preso il mio aggeggio della salute no si prima vittoria molto bene più 7 ok allora ci siamo presi sia il token che dei gettoncini i gettoncini quelli per aprire la cassa piccola ok allora io li lascerei per la fine eh voi che dite voi non dite nulla perché sto facendo un video ovviamente andiamo con la prossima ok vediamo di fare una bella figura come abbiamo fatto prima eh se è possibile allora dovrei imparare ad utilizzare la mira perché non la uso mai vado sempre con la mira automatica però non è sempre un bene ok ok allora qua se non ci prendiamo un po' di casse di energia andiamo poco lontano eh ok sono mi sento nel panino come al solito ok allora lì c'è un barrel ecco ecco aia aia no ecco panino infatti come voleva si dimostrare ok fa niente andiamo avanti comunque questa ve la metto eh nel video non è che taglio le sconfitte figuriamoci ok allora stavolta siamo stati più fortunati siamo spawnati accanto alla cassa perfetto ok questa qua dovrebbe essere nostra se non viene nessuno a bacarci il cosiddetto vai ok allora lì mi faccio gli affari miei allora ok bull ok non capisco cosa vuole fare quella pam ma perché nel panino ogni volta ecco vabbè perlomeno non abbiamo perso trofei eh allora mi pareva troppo bello che è subito la prima che vincevamo tutto filascio liscio ok ci siamo liberati di Carl allora quello lo so che mi vuole shippare la cassa io lo so ok vieni vieni ti aspetto vieni comunque le sopravvivenze quelle normali mi pare che non le facciano più no che adesso sono tutte o con i robot o con i meteoriti ma io non capisco ma dove stanno tutti ok allora stecchino se n'è andato si è nascosto è scappato è fuggito allora se è possibile aia ok ciao stecchino è stato un piacere johnny stecchino aia no uh 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 ok quella pfeiffer non mi piace per niente eh vabbè peccato ma va bene così secondi allora siamo quasi al grado 15 quanto quanto sono 10 minuti no la chiudo qua perfetto allora ci andiamo ad aprire le casse vediamo se ogni tanto ci capita qualcosa di buono ok ok qua di solito non si trova si trova sempre poco o niente vediamo la la cassa grande buono 83 d'oro bombardino e l'energia per brock l'energia per barrel bene bene questo mi è piaciuto un po' di più molto bene ragazzi per questo video è tutto le nostre belle partitozze ce le siamo fatte per questo video ho utilizzato pam per il prossimo sicuramente andrò a utilizzare andrò ad utilizzare un altro brawler ora devo vedere quale quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace commentate se avete qualche suggerimento da darmi sicuramente ne avete tanti quindi commentate e noi ci vediamo in un prossimo episodio su brawl stars ciao a tutti da zago